Non lo so, per me sono buoni i punti conquistati sul campo, noi pensiamo alla Roma, la forza di questa squadra quest'anno è che ha fatto 8 punti più dell'anno scorso, sta crescendo bene, purtroppo abbiamo sbagliato qualche partita, noi si va alla ricerca della perfezione e non vorremmo mai sbagliarla, questo è l'unico rammarico, io sono convinto che se i ragazzi si sono, come penso, comportati bene in questa sosta, domani andranno in campo dei giocatori motivatissimi che vanno a mille, io spero questo, quello che di solito hanno fatto in questi tre anni, tutto il resto sinceramente non ci voglio pensare perché non è sotto il mio controllo. Grava e Cannavaro sono due ragazzi eccezionali, al di là che sono giocatori importanti, se Aronica è andato via è perché Grava, secondo me, fare il ruolo che faceva Aronica ultimamente, l'ho visto più convinto, più motivato, Totò era abituato a giocare a titolare, mi sembravano a essere più stimoli, non dava più tanto alla causa come era abituato, in più ha avuto una richiesta per lui importante, è andato via volentieri, ci siamo baciati e abbracciati, perché credo di aver dato tanto a lui come lui ha dato tanto a me. Quindi con Grava e Cannavaro, che devo dire, sto sempre con noi, fanno tutto sperando che gli tolgano la squalifica prima possibile, altro non mi viene da aggiungere.